E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo approfonditamente entrambe le squadre e devastate di like per questo big match, mi raccomando, per questo big match devastate di like e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete guardandovi anche i video fatti, mi raccomando, anche quelli sul calcio a mercato, quelli fatti in settimana, recuperate tutto il commento all'Inter di ieri e commentiamo signori questo Milan-Juventus, la cover Gaza ci sta, la masterclass di Max, tra il serio il facetto, tra l'altro andremo anche a parlare di questa cosa così come avevo detto, clippate, sarà vittoria sicura del Milan, bram, ha vinto la Juventus, è giusto così, è giusto così. Però prima di iniziare vi voglio portare all'attenzione perché è colpa delle pontatine, come scrisse Tonali ai tempi, è colpa delle favole, quando ci fu quella pontata di Tonali, qui è colpa delle pontatine perché tornando un attimo a quest'estate, se vi ricordate, Okafor-Turam era l'attacco a due che avevamo disegnato per la Juventus. Ecco, visto che li avete visti, li abbiamo visti in azione tutti e due in questo primo scampolo di Serie A, ditemi nei commenti, ci stavo pensando prima, cosa sarebbe stato un attacco a due Okafor-Turam per la Juve. Io mica lo buttavo via, detta onestamente, mi è venuto in mente così. Detto questo, veniamo al commento della parte. Ma allora, io, come sapete un po', quest'anno non è che dia particolari pressioni o oneri al Milan. Non me ne frega niente dei soldi che il Milan ha speso sul mercato, devi vedere come li hai spesi, dove li hai spesi, perché li hai spesi, cosa ne viene fuori della tua spesa. Credo anche che il Milan abbia fatto, in generale, un calcio a mercato un po' pacchiano, sebbene poi la stragrande maggioranza, quasi tutti i giocatori che il Milan ha preso singolarmente sono buoni giocatori. Però A, hai cambiato tanto, quindi è difficile avere oneri già il primo anno, secondo me, dopo una rivoluzione del genere. B, nonostante tu abbia comprato tanto, alcuni ruoli restano scoperti. Quindi non do particolari oneri scudetto né al Milan né a Pioli. Sapete che questa è un po' la mia posizione. Detto questo, non sarebbe stato peregrino, non sarebbe stato, infatti anche questo è il ragionamento che mi ha mosso, oltre al valore delle due squadre, perché reputo nonostante tutto il Milan chiaramente più forte della Juventus. E penso che si sarebbe visto anche, tutto sommato, se non ci fosse stato l'episodio dell'espulsione. Credo io che la gara avrebbe preso un altro crinale, difficilmente avremmo visto poi la partita che abbiamo visto, detta molto chiaramente, almeno io penso questo. Però, 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 va anche detto che non sarebbe stato peregrino, nonostante le riserve che si possono avere sul Milan, la rosa del Milan, l'ampiezza in certi ruoli, Pioli e tutto, non sarebbe stato peregrino, quest'oggi, aspettarsi qualcosa di più. E intendo qualcosa di più nei confronti di una squadra, secondo me, più scarsa di te come la Juve, qualcosa di più anche durante la superiorità numerica e anche qualcosa di più nell'inferiorità numerica. Un qualcosina di più, un qualcosa di più. Non dico tanto, non particolari oneri di lungo respiro, di lungo periodo, trionfalismi, eccessi. No, semplicemente, secondo me, stasera, qualcosina in più. Era lecito aspettarselo, invece, sicuramente agevolata da quello che è stato poi il decorso della partita, sicuramente agevolata dall'episodio del Rosso. Comunque c'era, perché Kean stava andando in porta. Non è vero, come dice a Tomori, che c'era lui dietro perché lui era indietro di 10 metri. Quindi il Rosso per me c'era. Sicuramente agevolata, ripeto, dal discorso del Rosso. Però ho visto comunque una Juve che anche prima di quell'episodio lì non aveva demeritato. E poi ha fatto anche una squadra. Ho visto una squadra, la Juventus, che nonostante fosse tecnicamente inferiore, nonostante diversi magari anche errori tecnici, specialmente quando il confronto era a parità numerica, però ho visto una squadra che intanto ha preparato la partita in un modo anche molto chiaro e forse nell'unico modo in cui era possibile. Cioè quella di aspettare. Io, quando si parla spesso di Masterclass, ah, tale allenatore ha fatto la Masterclass così, io non lo riconosco e sono sempre contrario a riconoscerlo quando si pretende che un allenatore che ha la squadra più forte abbia fatto una Masterclass su quello che ha la squadra più debole. Lì è una contraddizione in termini. Però, in questo caso, ritenendo io la Juventus una squadra con molti meno mezzi del Milan, o sicuramente meno mezzi del Milan, mi sento di dire che oggi la Juve ha preparato tutto sommato discretamente bene la partita, impostandola nell'unica maniera che poteva fare, perché ovviamente se tu vai a Milano ad attaccare con le A o gli altri è difficile, molto difficile. Ha fatto una partita tutto sommato difensivamente ordinata, con la sua difesa a tre, provando ogni tanto la ripartenza contro una squadra più forte, con concentrazione, con spirito di servizio. Ho visto diversi giocatori anche aiutarsi a vicenda. Unica cosa che forse mi sento di imputare è che non avrei cambiato Kean per Vlaovic, ma avrei cambiato Vlaovic con Milik, che è forse l'unico che non mi è piaciuto della Juve, e Chiesa l'avrei fatto entrare un pochino prima, anche se c'è il discorso dell'infortunio che non si sa. Però, per il resto, ho visto una squadra che ha fatto, pur avendo dei mezzi tecnici per me inferiori, ha fatto quello che doveva fare, con spirito di servizio, con anche pulizia, con qualche errore tecnico, ma quello è più dei singoli, diciamo, quando c'erano azioni di strappo e di ripartenza, non una manovra di gioco, diciamo, spettacolare. Sappiamo com'è la Juve, ma sappiamo anche cos'è, sappiamo quali sono i mezzi, cioè chi... non so che idea ci sia su sta squadra, che cosa si pretenda. Per me oggi ho fatto una partita ordinata, concentrata, condivisibile, visto l'avversario, le caratteristiche dell'avversario, e l'ha portata, per me, meritatamente a casa. Il Milan, devo dire, un po' deludente, anche durante la superiorità numerica. Io ho visto il centrocampo, ho visto Reindersa, Dlimusa, cazzo, ho detto, che signor centrocampo. Invece, molto sotto per me. Il Milan, oggi, più che ovviamente, l'assenza di Teo si è sentita, per avere uno sfogo, per avere uno sbocco, per mettere in apprensione, anche per scardinare, no? Questa difesa della Juve, molto arcigna, molto attenta. Teo ti sarebbe stato sicuramente utilissimo. Ma non indico Leao, non indico il discorso di Giroud, sebbene, poi faremo un discorso a parte. La cosa che più mi ha un po' deluso del Milan oggi è intanto il fatto che ho visto Milan anche abbastanza sotto ritmo il primo tempo. Cioè, non veloce, non rapido, Milan abbastanza, forse, annebbiato dalla sosta nazionale, e il centrocampo non ha girato. Perché Adli, oggi, l'ho visto, a parte una fiammatella nel finale, ma l'ho visto sempre abbastanza lento, timido. Musa, anche lui, abbastanza provato, forse stanco dalla nazionale, non il solito Musa. Reinders, oggi, sostanzialmente un fantasma. Ciao, certo, ciao magari commette un'ingenuità, però, ripeto, l'espulsione era giusta e Ken stava partendo. Sul discorso di Giroud, anche lì, molti adesso ce l'avranno con Pioli, perché ha tolto Giroud e ha messo Jovic. Allora, io vi dico che Giroud ha 37 anni, anche qui, si ritorna al mercato. Si ritorna al mercato, no? E Giroud, ragazzi, ha 37 anni, ci sta che ha una certa durante la partita tu lo devi togliere. Ma ti giri in panchina e non c'hai in centramanti. Perché ha Jovic, che ha caratteristiche tutte particolari. E c'hai Ocafor, che non è un centravanti. Detto questo, detto questo, io al posto di fare entrare soprattutto anche Luca Romero, avrei messo prima Ocafor e poi, nel caso, mi giocavo la carta Romero. Non so perché non perché non sia entrato Ocafor oggi. Ocafor, per me, era un giocatore ad una certa che tu dovevi mettere in campo. Stava male, aveva qualcosa. Boh, se era disponibile, Ocafor per me doveva entrare prima di Romero. Poi Romero me lo uso come carta della disperazione. Ma Ocafor doveva giocare, secondo me. Sul cambio di Pulisic, anche lì, non me la sento di dar colpi a Pioli, perché lì, chi vuoi togliere? È l'unico che puoi togliere, lui. E ripeto, l'unica cosa è che mi aspettavo qualcosa di più dal Milan. perché nonostante io non dia al Milan oneri scudetto, oneri particolari, non sono uno di quelli, anzi, che vuole fare trionfalismi perché il Milan ha speso, ha comprato così. Permettetemi della prudenza, ripeto, permettetemi della prudenza, della prudenza al Milanieve per quello che è stato fatto, però ci si poteva anche aspettare una fase Milan entusiasta, in palla, fisicamente trascinante, così, che durasse un po' di più, o meglio, che includesse al suo interno anche una vittoria con la Juve che secondo me era assolutamente alla portata. Poi ho visto anche un Milan che, permettetemi, ha avuto anche un po' di, questa è un'altra cosa che input allenatore, un po' di timore reverenziale nei confronti della Juve, perché durante l'inferiorità numerica ho visto quasi un Milan che è un po' timoroso, un po' timoroso per l'espulsione avvenuta, specialmente nel secondo tempo non ho visto l'acceleratore premere così. E vabbè, ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, devastate i like, un caro saluto.